Una mostra nella mostra è quella che propone Palazzo Blu a Pisa. Durante l'esposizione dedicata a Kiterin, infatti, per rimanere in tema di street art, ecco Attitude, un percorso espositivo che segue la genesi e gli sviluppi del movimento culturale che tanto ha segnato gli ultimi 40 anni, quello legato alla street art, e che spesso ha cambiato il volto delle nostre città. Questo percorso segue le opere dei principali artisti che hanno dipinto a Pisa e in Toscana. È una mostra che accompagna la mostra di Kiterin ed è una mostra sulla pittura di strada che comprende dai graffitari fino al neomuralismo, quindi comprende tutti i movimenti, i passaggi di pittura di strada che ha fatto Herring. Qui c'è un notevole numero di artisti italiani di questi stili e di questi modi di svolgere la loro attività artistica che sono molto interessanti e oggi abbiamo anche, accompagna la mostra, una serie di performance dal vivo di artisti, oggi c'è in particolare Joyce, che realizzano un'opera in presenza, davanti al pubblico, quindi anche rendendo meglio l'idea di come si sviluppa la loro attività.